Cari studenti e studentesse, buongiorno. Se siete interessati a studiare Ingegneria o Matematica, l'Università di Siena è il posto che fa per voi. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche dell'Università di Siena offre infatti corsi di laurea e di laurea magistrale, il dottorato di ricerca e tutta una serie di servizi per i quali il nostro Ateneo da tempo eccelle. Anche nell'anno accademico 2020-2021 avremo un'offerta didattica ricca e rinnovata e, nonostante l'epidemia di Covid-19, contiamo di offrire una formazione di alto livello ai nostri studenti. In particolare l'Università di Siena è subito partita con la didattica a distanza già nel corso del 2020 e garantisce a tutti gli studenti che per qualunque motivo non potranno essere presenti nelle nostre aule, nei nostri laboratori nel 2020-21, l'accesso alla didattica a distanza. Quindi i corsi saranno fruibili anche in modalità teledidattica, sincrona o asincrona, sarà possibile partecipare in forma virtuale alle esercitazioni di laboratorio, ci sarà un ricevimento studenti costante sia in presenza per coloro che potranno partecipare, sia in forma telematica per coloro che dovranno accedervi a distanza. Insomma siamo assolutamente intenzionati a sfruttare il meglio di questa difficile situazione per coniugare la didattica tradizionale con forme di didattica innovative che possano migliorare la vostra esperienza formativa. Ed ora andiamo a vedere qual è l'offerta per l'anno accademico 2020-21. Per l'anno accademico 2020-21 il Dipartimento offre tre corsi di laurea triennale, Ingegneria informatica e dell'informazione che si articola in quattro curricula, elettronica, sistemi automazione, sistemi informatici e telecomunicazioni, il corso di laurea in Ingegneria gestionale e il corso di laurea in Matematica. A seguire quattro corsi di laurea magistrale, il nuovo corso in Artificial Intelligence and Automation Engineering che si articola in Intelligent Systems e Robotics and Automation, Electronics and Communications Engineering che presenta due nuovi curricula, Telecommunications for the Digital Society e Electronics for Smart Industry, il corso di laurea magistrale in Engineering Engineering Management che è la prosecuzione naturale per chi ha studiato Ingegneria gestionale alla triennale e Applied Mathematics che è la naturale prosecuzione per chi ha studiato matematica. Tutti i corsi di laurea magistrale sono erogati interamente in lingua inglese per due motivi. Il primo è che l'inglese è la lingua della professione per ingegneri e matematici che tipicamente operano in un contesto internazionale e il secondo è per consentire a studenti stranieri di iscriversi ai corsi del Dipartimento, cosa che avviene ormai con successo da diversi anni. E dopo la laurea oggi la figura dell'ingegnere e del matematico è al centro della rivoluzione digitale che ha cambiato e cambierà sempre di più il modo di operare di aziende, enti di ricerca e della pubblica amministrazione. Per questo i nostri laureati trovano immediatamente collocazione nel mondo del lavoro e il Dipartimento intrattiene relazioni e rapporti di collaborazione con un gran numero di aziende che sono ben felici di offrire anche durante il percorso di studi opportunità di stage e tirocinio agli studenti e che cercano di catturarli il prima possibile non appena si laureano per inserirle nei loro organici. Bene, allora, trovate tutte le informazioni sui nostri siti che vedete in sovrimpressione, non esitate a scriverci, a contattarci per qualunque richiesta di chiarimento. Vi aspettiamo a Siena, al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche nel prossimo anno accademico. A presto!